vorrei cominciare questo mio intervento per la giornata del latte 2021 parafresando il titolo di una trasmissione televisiva di parecchi anni fa che diceva se permettete parliamo di in questo caso parliamo di latte parlare di latte è stato nel tempo passato parlare di un alimento che era considerato essenziale insostituibile importantissimo oggi molto sotto accusa oggi diciamo preso di mira da tutta una serie di informazioni più o meno vere più o meno false ma da ricercatore che da molti anni lavora sul latte derivati voglio affrontare l'argomento con dei numeri e con dei riferimenti precisi e cominciamo con i numeri quando si parla di latte bisogna considerare e questo lo dice la fao non lo diciamo noi quattro aspetti l'aspetto nutrizionale l'aspetto di impatto ambientale l'aspetto economico il valore il controvalore e l'aspetto sociale allora da punto di vista dell'apporto nutrizionale il latte ha un apporto di nutrienti essenziali sia come proteine che come calcio assolutamente di altissimo livello di primo livello cosa vuol dire vuol dire che il latte è un alimento denso di nutrienti che in un piccolo volume apporta un livello di nutrienti essenziali molto elevato e questa considerazione è importante perché ci porta al secondo aspetto è vero producendo latte si ha un impatto sull'ambiente ma come qualsiasi cosa in questo momento io sto respirando e sto emettendo anidride carbonica la mia vita ha un impatto sull'ambiente però che cosa succede che l'impatto sull'ambiente del latte se calcolato in rapporto ai nutrienti che apporta non è così elevato in una serie di webinar che abbiamo fatto all'interno del progetto craft che ha proprio sede a cremona ed è finanziato da fondazione caripro e regione lombardia si è dimostrato attraverso studi anche internazionali che l'impatto ambientale del latte è molto inferiore all'impatto ambientale di altri alimenti a parità di nutrienti apportati il latte poi rappresenta un filone economico importantissimo tiene in piedi un settore completo complesso storico tradizionale del sistema italia pensiamoci prima di dare delle dei giudizi negativi su questo sistema che ha mantenuto un'intera classe sociale da ultimo la società e sì perché il latte si produce dalla pianura alla montagna il latte è uno dei motivi di ritorno anche alla montagna la campagna di tante persone e nel mondo sostiene una economia che si stanno sviluppando economie che si stanno sviluppando in tantissimi paesi è per questo che c'è la giornata mondiale del latte è per questo che è stato firmato un accordo ormai storico tra la fao e l'international daily federation la federazione che riunisce tutti i produttori del latte del mondo e che e oggi lo celebriamo è proprio presieduta da un italiano a partire da quest'anno buona giornata del latte a partire del latte